A un certo punto va da un appartamento a un altro perché nell'appartamento accanto ci sono dei satanisti che hanno rubato il suo figlio. E allora c'è questo crescento finché lei non entra in questo. Ah quindi è solo sonoro? Diciamo se tu vuoi il prototipo del music horror, se tu vuoi l'anteliteram in questo qua.